Senti, ma è una vendetta? Ma che vendetta, ba? Ancora questa storia? Guarda che me l'hai detto a te che ti piaceva. Laura, tu me l'hai fatto vedere in foto, che ne sapevo io che era un caso umano. Sì, però io solo oggi posso stare con Stefano e poi secondo me sta esagerando. Povera Barbara. Ma no dai, Gregorio è strano però è bravo. Che è? Ce ne dobbiamo andare via subito. Che ne dobbiamo andare via subito.